La camorra è un dato costitutivo di questa società, di questa città, di questa regione. Siamo particolarmente preoccupati in questa fase. Questa frase ha provocato numerose reazioni di sdegno, come quella del procuratore Giovanni Colangelo o del sindaco di Napoli De Magistris, che riferisce di essere saltato sulla sedia quando l'ha ascoltata. Ma l'espressione è stata anche occasione per la riapertura della disputa tra la Bindi e il governatore Vincenzo De Luca, che ha stigmatizzato le parole del presidente dell'antimafia. Considero un'offesa sconcertante a Napoli e a tutti i nostri concittadini l'affermazione dell'onorevole Rosaria Bindi, ha dichiarato De Luca in un breve comunicato. Ma la Bindi non ci sta e ribatte. Se qualcuno si è offeso non posso chiedere scusa perché ne sono convinta. Non ho mai parlato di DNA, non negare la camorra è il primo atto per combatterla. Una disputa, quella tra De Luca e la Bindi, tutta interna al Partito Democratico, nata quando la Commissione inserì l'allora candidato De Luca nella lista degli impresentabili durante la scorsa campagna elettorale per le regionali. Un episodio cui fece seguito una denuncia da parte di De Luca per diffamazione. Un nuovo capitolo sembra aggiungersi nella lunga e travagliata novella sulle sorti dell'ex manifattura tabacchi di Viale Crispi. Se negli scorsi mesi, infatti, e nei piani della passata amministrazione Galdi, sembrava ormai definitiva la delibera di assenso al gruppo Maccaferri datata 25 marzo per l'installazione all'interno dell'immobile di un incubatore tecnico Fab Lab, l'attuale amministrazione comunale decide di fare un passo indietro. La proposta aveva fatto sollevare più di un sopracciglio, a quanti ritenevano quasi un affronto, affidare in gestione a dei privati la storica struttura ritenuta patrimonio cittadino. A sollevarsi contro la delibera di giunta lo scorso aprile fu innanzitutto il MALC, il Comitato Civico Manifattura la Città, da tempo impegnato nella lotta intesa al recupero dell'edificio storico, oggetto di una causa civile, per far sì che ritorni tra i patrimoni culturali, almeno la parte storica che affaccia su Viale Crispi, e al quale ora l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Servalli sembra tendere una mano. Nelle intenzioni espresse dall'amministrazione, infatti, l'idea di revisionare gli atti che interessano il recupero e il miglioramento del patrimonio storico-culturale cittadino. All'avvio di tale procedimento, quindi, seguirà la revoca della deribera, che riaprirà gli scenari sulle varie possibilità di recupero dello storico edificio caro alla memoria dei cavesi. Questa mattina parliamo di turismo, lo facciamo in compagnia della dottoressa Lucia Scapolatiello, presidente Confindustria Turismo Salerno. Dottoressa, anzitutto, come è andata la stagione estiva che si è appena conclusa a Cava dei Tirreni e poi uno sguardo anche alle città vicine? Questa stagione è andata bene, perché c'è stato molto movimento, ma soprattutto movimento di turisti stranieri, la cosa ci conforta ancora di più. Purtroppo pochi italiani, perché la crisi qui la sentiamo in casa e quindi movimento di italiani ce n'è stato poco, però c'è stato movimento di stranieri, abbiamo recuperato un pochino il mercato del nord Europa, i francesi soprattutto. E qui diciamo che abbiamo lavorato bene a Cava. Ho sentito anche i commenti degli altri colleghi albergatori, i quali mi hanno confermato che l'andamento estivo è stato sicuramente positivo. Cava, città turistica, se spesso si parla in questi termini della nostra città. Secondo lei, la nostra realtà ha strutture adeguate per essere competitiva con le altre realtà turistiche? Allora, Cava città turistica, questa è una provocazione. Cava era una città turistica a mio avviso, perché io per città turistica intendo una città che ha un suo appeal, che fa un suo fascino, un suo riconoscimento all'estero, per cui il o lo straniero o l'italiano viene a Cava per stare a Cava. Il movimento cavese è dovuto soprattutto alla centralità della città di Cava, al fatto di essere vicinissima, infatti nell'elequandile dell'azienda di soggiorno, parliamo della porta della costiera amalfitana. Per cui il movimento, io dico che è un movimento dovuto a questa centralità, non al fatto che Cava in sé possa essere oggi almeno con i canoni di quello che il turista chiede ad una città turistica essere considerata ancora veramente una città turistica. Grazie 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 Grazie